Buon pomeriggio e ben trovato al nostro ospite Massimo Giuliani. Ciao Massimo. Ciao, buon pomeriggio a te e a tutti quanti. Un abbraccio. Oh, l'hai trovato un attimo per venire qui da noi. Insomma, per collegarti più che venire qui da noi. Con molto piacere, lo sai. Sono molto legato a Nove Mai e vi voglio bene a tutti. Vi stimo e vi ringrazio per il bel lavoro che fate, che è importantissimo. Grazie a te, il piacere è veramente tutto nostro. Anche perché noi ormai siamo, come dire, abituati ad avere un altro famoso, Giuliani, che è di casa qui. Daniele, presidente Anad, naturalmente, doppiatore. Ma la cosa divertente è che, come succede nella vita, per un certo periodo Daniele è stato il figlio di... Adesso sono io che sono il padre di... Che è divertente, però è giusto. Si sono invertiti i ruoli, però dai, insomma, le devi essere assolutamente orgoglioso. No, assolutamente. Ci mancherebbe altro, no? No, molto orgoglioso. Tra l'altro mi fa ridere perché bene o male ripercorre alcuni passaggi della mia vita, no? Dall'inizio di questo... Beh, io... Ecco, io credo che sia arrivata una telefonata a Massimo. Non ti vedo più. Adesso ti vedo. No, forse, dicevo, forse ti è arrivata una telefonata, eravamo pronti a questo. L'ho subito stoppata, immediatamente. Avete la precedenza. Dicevo, sì, è un po' ripercorso, anche se io ho cominciato molto prima di lui, ero proprio piccolino piccolino, però ho rifatto un po' alcuni passaggi della mia carriera, compreso quello di presidente dell'ANA, lo sono stato io molti anni fa e adesso lo è lui. Mi diverte molto. Ecco, è andato via di nuovo, è ricercatissimo oggi. Io le sto, beh, vuoi fare. Oggi tutti ti vogliono, però sei nostro almeno per una ventina di minuti. Assolutamente. Segnatevi voi che cercate Massimo Giuliani in questo spazio temporale. Allora, attore, doppiatore, direttore di doppiaggio e anche docente dell'Accademia Mediterranea del Cinema, no? È uno dei miei hobby quello, sì. Mi piace molto, mi piace molto poter tramandare le cose che ho imparato. Io sono stato fortunato, lo dico sempre, sono fortunatissimo perché ho avuto la possibilità nella mia carriera e nella mia vita professionale di lavorare al fianco del gota di questo mestiere, dai registi agli attori. Se penso ai grandi attori che hanno segnalato la storia del nostro cinema, che sono, non so, Mastroianni, Sordi, Manfredi, Casma, Antoniazzi, Volontè. Io ho lavorato con tutti, con Fellini, Monicelli, Comencini, Risi. Sono stato un privilegiato, ho imparato tanto guardando, ascoltando, rubando e con la grande passione che ho sempre avuto per questo lavoro. Quindi mi fa piacere pensare di poter tramandare qualcosa, raccontare. La memoria è importante in questo lavoro, come in tutto del resto, e quindi raccontare, spiegare, far capire anche perché oggi la figura dell'attore o del doppiatore è questa. Noi siamo figli di, e quindi è bene sapere di chi siamo figli, sapere chi ha fatto la storia, sapere chi ha portato il livello di professionalità a questo punto. Come l'hai visto cambiare nel corso del tempo il tuo mestiere? Tantissimo, devo dire la verità, con una punta bella, grossa di dispiacere, non l'ho visto migliorare, purtroppo. Manca parte di quella preparazione che avevano, di quella professionalità straordinaria che avevano tutti questi personaggi, che era tutta gente che aveva studiato, che aveva fatto corsi, accademie, centri sperimentali, anni di piccoli ruoli, avevano fatto la gavetta, non erano passati attraverso, scusatemi, attraverso i followers, ma erano passati attraverso un lavoro durissimo che li aveva poi portati a poter sostenere certi ruoli, a poter affrontare certe platee con grande successo, con grande capacità. Io ricordo che quella generazione dell'immediato dopoguerra, secondo dopoguerra, è praticamente irripetibile, perché se tu vai a vedere la lista degli sceneggiatori, dei registi, degli attori che sono venuti fuori alla fine degli anni 40, agli anni 50 e poi 60, è pazzesca ed è abbastanza non più producibile. Anche per quello che riguarda il doppiaggio, devo dire, purtroppo l'aumento a dismisura del lavoro, le piattaforme, quindi la quantità pazzesca di lavoro che deve essere espletato, ha fatto sì che la qualità purtroppo sia andata peggiorando. Tra l'altro, all'inizio il ruolo del doppiatore è stato inventato, non esisteva, esisteva il cinema muto, nasce il sonoro, il sonoro nasce poi più che altro nel periodo del ventennio fascista, quindi è impensabile sentir parlare una lingua straniera con un tasso di analfabetismo in Italia talmente elevato che non si poteva pensare ai sottotitoli e quindi si inventa una soluzione che è il doppiaggio, ma non esistono i doppiatori. Quindi che cosa si fa? Si vanno a cercare i più grandi attori di cinema e di teatro e gli si dice se resti disposti a dare la vostra voce ai grandi attori stranieri, per cui Gino Cervi doppia l'amleto fatto da Laurence Olivier e così è stato l'inizio. Quindi c'era una preparazione pazzesca alle spalle di ognuno di coloro che poi si trovavano davanti al legio, ma dopo aver fatto, ripeto, anni di accademia, di cinema, di teatro, quindi con una preparazione molto ampia. Poi diciamo che dagli anni 70 sono cominciati a nascere i doppiatori puri, cioè quelli che hanno fatto solo doppiaggio in vita loro e che quindi hanno purtroppo una preparazione più limitata. La fretta, l'aumento, il bisogno di far costare meno tutto e quindi di correre di più rispetto a una volta fa sì che poi la qualità del prodotto vada purtroppo peggiorando. E poi adesso ci si è messo anche il politicamente corretto, che applicato all'arte produce esiti, come dire, infausti assolutamente, specialmente nel doppiaggio, il bianco doppiato dal bianco, il nero doppiato dal nero, l'omosessuale doppiato dall'omosessuale e lì si veramente va oltre, diventa forse discriminatorio al di là dell'intento invece che gli si vuole... Ma a parte il discriminatorio, come dici tu, che è sacrosanto, c'è anche un discorso, come dire, di uccisione della qualità dell'attore. L'attore è uno che interpreta ruoli che non sono se stessi. Io sono il più bravo al mondo a recitare Massimo Giuliani, ma non posso recitare Massimo Giuliani tutta la vita. Il ruolo dell'attore è quello di raccontare personaggi che sono diversi da te. Nel momento in cui tu hai bisogno di identificare l'interprete con il personaggio, significa che il ruolo dell'attore è svilito. Vuol dire che tu non ti fidi della qualità di un attore di raccontare qualcosa che non gli appartiene. Ora, al di là del colore della pelle... Ecco, ancora una telefonata, ma arriva subito, perché lui stoppa nella telefonata e ritorna. Dicevo, ora al di là del colore della pelle, c'è un discorso legato proprio alle qualità. Non è necessario che vada a prendere uno zoppo per recitare uno zoppo, lo recita un attore, fa un ruolo, racconta l'omosessuale, racconta il povero, racconta il ricco, racconta l'ubriaco. Non è che devo andare a prendere un ubriaco. Se devo fare un assassino, non è che vado a Rebibbia e prendo un assassino per fare il ruolo dell'assassino. Lo faccio a recitare un attore. L'attore dovrebbe, perlomeno, si suppone, quelli bravi lo sono, in grado di raccontare qualcosa che non è se stessi, e quindi qualcosa di profondamente diverso da se stessi. Anzi, quello è lo stimolo maggiore, quello è il momento di esaltazione, che è quello dello studio, del trovare il modo di raccontare, di calarsi, c'è questo modo di dire calarsi in un personaggio, cioè entrare in abiti che non ti appartengono e cercare di pensare con la testa di quel personaggio che cosa avrebbe fatto, che cosa avrebbe detto, come si sarebbe comportato. E questa è la sfida dell'attore. Ma forse è perché non tutti comprendono che il doppiatore non è solo una persona che parla sopra ad altre. Beh, difficilmente, no? Il doppiatore viene accostato all'attore. Invece forse è la condizione sine qua non per essere un buon doppiatore, essere un attore. Assolutamente, perché... Dicendo tu, no? Assolutamente, perché quello che dico esattamente a tutti quelli che poi si avvicinano a questa professione che necessita di una passione, cioè non è un lavoro che si può fare perché voglio guadagnare del denaro. È un lavoro che si può fare, si deve fare nel momento in cui hai una passione che ti porta a volerlo fare. Io dico, ci sono nella vita quotidiana mestieri che si possono fare perché voglio... Devo vivere, quindi devo guadagnare. Altri che necessitano di una passione particolare. Faccio un esempio. Non puoi fare il veterinario perché vuoi guadagnare del denaro. Se non hai un rapporto, se non ami un rapporto con gli animali, è un lavoro che non potrai mai fare. Il lavoro dell'attore o del doppiatore prevede che tu abbia una passione smisurata per raccontare che cosa sono personaggi che sono diversi da te. Il doppiatore deve recitare, non deve fare un'altra cosa. E l'errore più grosso è quello di pensare che l'elemento più importante sia la voce. Io lo continuo a dire, mi guarderanno tutti come un pazzo. La voce è la cosa meno importante. Noi non dobbiamo emettere un bel suono, ma dobbiamo trasmettere un'emozione che è una cosa profondamente diversa e che va al di là del colore della voce. Se voi avete sentito l'originale di Marlon Brando, Marlon Brando aveva una voce stranissima, un po' chioccia, un po' strozzata, ma non ci ha mai fatto caso nessuno, perché è stato il più grande attore di cinema che ci sia capitato di vedere. Quindi la voce è veramente... Ci sono stati clamorosi attori di teatro, di doppiaggio, di cinema, che avevano una voce che se tu andavi a analizzare soltanto quella, poteva sembrare strana, non bella, non fonda, non rotonda, però erano bravi. E' quello il problema, devi essere bravo. Poi la voce è l'ultima cosa. Però si doppia con tutto, si doppia con la faccia, si doppia col corpo, si doppia con... Ci si mette dentro tutto, non è sufficiente la voce. Allora, Niccolò Rosadini, che ci segue su YouTube, mi dà modo di dire a tutti che se avete delle domande oppure volete fare un saluto a Massimo Giuliani, potete scrivere nei commenti. Intanto ti saluta e ti dice ciao Massimo, quanto a cuore Bac e Semola, e poi ti fa una domanda e dice al giorno d'oggi è ancora possibile diventare doppiatori mettendosi in contatto con i direttori per farsi rovinare? Allora, oggi è diventato un po' più complicato per una serie di motivi. Il Covid è da un lato e il desiderio, il bisogno assoluto di sicurezza da parte delle major americane, soprattutto, fanno sì che in sala tu non possa entrare se non sei chiamato a lavorare. Quindi è difficile oggi poter arrivare lì e dire a un direttore di doppiaggio... Scusatemi, un continuo. È difficile oggi... No, è difficile... Sì, sì, vai. È difficile oggi poter arrivare in uno stabilimento di doppiaggio e dire a un direttore mi ascolti. È molto complicato. Tra l'altro, prima di poter arrivare a quello devi essere preparato, devi aver studiato, devi aver imparato. Dopo che hai fatto questa trafila poi puoi trovare metodi... Oggi va molto di moda fare il dub reel, cioè fare dei piccoli un minuto e mezzo, due minuti di filmati nei quali tu hai doppiato tu film, pezzi di film famosi in modo che un direttore possa sentire la tua qualità quanto sei capace fino a dove puoi arrivare e così via. Però, ripeto, è diventato molto più difficile rispetto a una volta. Mi fa piacere... No, Bach e Semola, ma stiamo proprio... Semola, stiamo parlando del 1962-63, La spada nella roccia, pensate quanto tempo è passato. Invece Bach l'era glaciale è più recente. Molto divertente. Io mi divertivo sempre molto a fare i gattoni in base. Ecco, ma qual è l'attore o comunque il personaggio che hai doppiato che ti è rimasto nel cuore, che ti sei portato anche a casa delle volte? Dai, detto male. Beh, qualche cartone animato, essere stato scelto per essere la voce ufficiale di Bugs Bunny. È chiaro che mi faceva molto piacere. Mi ha fatto immensamente piacere aver fatto un film straordinario come Blues Brothers perché John Belushi rimane, secondo me, un attore immenso, pazzesco, morto troppo presto, una vita buttata via, un genio assoluto di questo lavoro. E io... Mi piace sempre citare, perché poi è facile citare le cose in cui dici che sono stato bravo. Mi piace anche citare le gaffe o le top che ho fatto nella mia vita. E ricordo che prima di doppiare Blues Brothers, Sergio Feliciati, che era il responsabile della distribuzione italiana del film, a me e a Piero Tiberi, Pierino, un bacio, purtroppo non c'è più un altro straordinario collega, attore, doppiatore bravissimo che doppiava Dan Croyd. E Sergio Feliciati ci fece vedere il film in anteprima e alla fine della proiezione mi disse che ne pensi, Massimo, di questo film. E io, rimasto a storico, ho detto guarda Sergio, il film è straordinario. I due sono due fenomeni, sono due geni, tutto. Secondo me il film è di una comicità troppo intelligente e non farà una lira. Questo vi ho detto, quindi pensate quanto non ci avevo capito niente da quel punto di vista. Però mi sono divertito molto a farlo. Senti, se è così, a freddo, adesso ti chiedo di farmi qualche voce, anche quella di Baxman. che succede amico? Tu sai che questo significa guerra? Senti, a proposito di recitare a freddo, quindi quando voi arrivate in sala di doppiaggio, niente, non sapete mai cosa vi aspetta? Assolutamente no. Avete provato nulla? Assolutamente no, non ci viene mandato il copiano a casa come viene fatto sul set o in teatro. Noi arriviamo su richiesta di una società che ti chiama, un direttore che ti chiama e ti dicono mercoledì mattina, giovedì pomeriggio, tu arrivi là e non sai che cosa farai. Potresti fare il monologo del Macbeth domani e domani e poi domani il tempo striscia giorni e così via. Potresti fare un cartone animato, potresti fare un film francese, potresti fare un film abbiantato nel Bronx, potresti fare un film nella Russia azzarista e devi essere quindi in grado di fare qualunque cosa. Per questo è importante la preparazione, per questo è importante la conoscenza, la cultura. È chiaro, nel momento in cui io entro in sale e scopro che devo doppiare il Macbeth, se non ho una buona, ottima conoscenza di che cosa è Shakespeare, di che cosa è il teatro elisabettiano, rischio di affidarmi semplicemente alla voce, di cercare di fare una bella voce e di dire bene le parole, però in realtà non faccio il lavoro che dovrei fare e rischio in quel caso di andare un pochino a tradire l'originale. Ecco, la cosa fondamentale per un attore, per un doppiatore, nel momento in cui si trova davanti al Leggio è quella di avere il massimo rispetto per l'originale, che significa non fare nulla di diverso e non andarlo a prevaricare, non andare a fare qualcosa che lui non ha scelto di fare. Noi dobbiamo far sì che lo spettatore ritenga che Harrison Ford, che Tom Cruise, che John Belushi parlino bene italiano e che quindi abbiano fatto la versione italiana del loro film. Io cito sempre la stessa cosa, se io dico Cantami o Diva del Pelita Ghille, Lira Funesta, che Finita Dulce, tutti quanti mi dicono è Liliade Omero. In realtà non è Omero, ma è un signore che si chiama Vincenzo Monti che ha fatto la traduzione dell'Iliade di Omero, ma per noi è Omero, per noi è Liliade. Quindi noi dobbiamo fare esattamente la stessa operazione nel campo del doppiaggio, dobbiamo far sì che quello parli italiano esattamente con le scelte che ha fatto lui, tempi, ritmi, pause, intenzioni, logiche artistiche, che magari sono diverse da quelle che avremmo scelto noi. Quante volte ognuno di noi, dei miei colleghi, è capitato di doppiare qualcosa e dire ma perché ha fatto questa cosa? Io l'avrei fatta diversa, ma non la devo fare diversa, devo fare quello che ha fatto lui, cercando di riproporre, dico sempre secondo la cultura e i colori che ci appartengono, riproporre quello che è stato fatto da loro. Perché cultura e colori? Perché se no noi dovremmo doppiare un film giapponese dicendo dove sei stato l'altro giorno? È impensabile. Quindi dobbiamo riprodurre la loro normalità con la nostra normalità. Un attore francese recita a una velocità che è quadrupla rispetto a quella di un attore italiano. Ma se tu andassi al cinema e vedessi un film in cui dall'inizio all'inizio tutti quanti hanno questa velocità in questo modo all'inizio e tu diresti ma per quale motivo parlano così? Perché per noi è innaturale mentre per loro è naturale. Quindi noi dobbiamo riproporre in modo naturale ciò che è stato fatto da loro. Quindi per esempio nel caso di un film francese o anche spagnolo spesso e volentieri in sede di adattamento bisogna levare un po' di parole per farci parlare a un ritmo che è più giusto per la nostra cultura. Ma allora visto che arrivate lì senza sapere nulla come si fa a entrare in empatia con l'attore e il personaggio che interpreta? Cioè qual è la prima cosa che si fa? Che fa il doppiatore l'attore quando entra in sala ed è al primo nello si chiama la prima scena prima nello sì beh noi ci diciamo che la figura del direttore è importante e fondamentale anche in quello cioè nella capacità di far sì che l'attore che è chiamato a doppiare un personaggio possa capire qualcosa di questo personaggio gli venga raccontata la storia del film il carattere in modo che già capisce qualcosa dopodiché c'è un elemento che io dico sempre molto importante che è quello di imparare a decodificare l'immagine noi qualunque cosa qualunque filmato vediamo ogni fotogramma di quel filmato è ricco è strapieno di codici che come spettatore non leggiamo e ci arrivano addosso in via subliminale come addetti ai lavori dobbiamo imparare a leggerli e i codici sono tutti come è vestito quell'attore come cammina perché gli hanno messo quell'orologio e non un altro perché c'ha i capelli tagliati in quel modo perché ha quel tipo di eloquio perché fa quelle espressioni perché lì è entrata la musica e non è entrata prima perché c'è stato quel taglio di luce sui suoi occhi e così via nel momento in cui noi impariamo rapidamente a decodificare l'immagine e a capire entriamo già un po' nell'ottica di quel personaggio poi ripeto secondo me l'aspetto fisico io se mi metto davanti a Leggio e mi fai doppiare cinque personaggi diversi ma sicuramente avrò cinque posizioni del corpo diverse perché cercherò di andare a trovare una posizione simile a quella dell'attore che mi consente in qualche modo di stargli un po' più appiccicato addosso e pensa che c'è ancora qualcuno che dice che quella dell'attore del doppiatore non è una professione quindi anche ma perché cioè poi non si diverte perché è facile che ci vuole a doppiare devono avere anche cioè dei diritti che gli vengono riconosciuti ogni volta che la loro opera passa in tv pensa un po' non è un mestiere il tuo lo sapevi che non è un mestiere no no lo scopro adesso me lo stai dicendo tu pensa che io per anni sono cascato in questo tranello no io devo dire a me ogni tanto dispiace vedere quando è così poco considerato il lavoro dell'attore nel senso che si pensa non so bene su quale base che è una cosa che possono fare tutti che chiunque può fare l'attore si prende quello ah ma c'ha una bella faccia gli faccio fare un film ah ma c'ha un bel sorriso ah ma quella è carina gli faccio fare l'attrice ecco questo è svilire il ruolo dell'attore io ricordo che una volta doppiando non faccio nomi ovviamente un film italiano come direttore a un certo punto c'erano da ridoppiare alcune cose perché il suono non era buono c'erano stati dei cambi di dialogo e così via e venne un signore a doppiare se stesso che aveva fatto un piccolo ruolo là e vedevo che aveva grande difficoltà proprio ma non andare a sinca a doppiare proprio a recitare faticava tanto e allora siccome continua a dirgli no ma scusa ma perché ma no ma scusa ma cerca di entrare ma cerca di capire finché a un certo punto lui mi ha detto sorridendo no ma guarda sì lo so ma sai che cos'è che io non faccio l'attore io sono un medico sono un dottore però sono un amico del regista siccome mi diverte tanto allora ogni volta che c'è un film suoi gli dico come fai fa un ruolo perché mi diverte e io gli ho detto dico ma pensa che io pure c'è un carissimo amico che fa il primario di chirurgia gli ho detto a me fai fare un appendicite che mi divertirebbe tanto ma a me non me l'ha fatta fare mi ha detto non hai studiato non la puoi fare e lui mi ha guardato con gli occhi che non capiva fino a che punto lo stessi prendendo in giro e che cosa gli stava dicendo ecco purtroppo noi ogni tanto caschiamo in queste situazioni per cui ma sì lo può fare a chiunque no non è vero ci vuole studio ci vuole preparazione ci vuole conoscenza ci vuole cultura c'è un bellissimo monologo del 1500 di Molière che parla attraverso la voce di una donna della cultura e della conoscenza e dice il potere è quello la cultura la conoscenza studia impara perché se avrai studiato avrai imparato avrai il potere avrai la conoscenza e potrai fare tante cose ma il ruolo dell'attore è quello devi studiare oggi noi abbiamo in questo momento una discreta qualità di attori ce ne sono parecchi bravi penso a Favino Elio Germano penso a a Kim Rossi Stewart penso a a Borghi penso a Marinelli penso a ce ne sono altri a Gifuni sono bravissimi ma è tutta gente che ha studiato tanto che si impegna ma pensate a uno come Luca Argentero che viene dal Grande Fratello ma quanto si è impegnato poi Luca Argentero per arrivare a essere l'attore che è non è che ha detto ho fatto il Grande Fratello ora faccio l'attore non ha studiato ha imparato e oggi è un bravissimo attore bravo veramente ma frutto dello studio dell'impegno costante quotidiano io vedere la formazione la formazione assolutamente è importante e qui ritorniamo anche al tuo ruolo di cui abbiamo parlato aspettiamo che si riconnetta eccoci la preparazione a tuo ruolo in accademia a Bari insomma perché la formazione è senza ombra di dubbio una delle cose fondamentale è fondamentale è fondamentale e devono avere io dico sempre che insomma noi abbiamo avuto un periodo e forse continuiamo un po' a averlo in questo paese in cui i verbi finiscono per icchiare troppa gente che ha reciticchiato canticchiato governicchiato sarebbe bene are governare cantare recitare studiare are e sarebbe bene farlo perché perché è importante perché mi spaventa pensare come? fare fare dico invece che sonnecchiare fare 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 ma tu quando incontri i ragazzi che insomma vengono a studiare con te come li cioè qual è come dire l'immagine che trovi delle persone gli uomini e delle donne disposte a insomma e vogliose di imparare oppure che arrivano già con una certa sicurezza che dicono vabbè lo faccio perché lo devo fare perché così lo mettono in un curriculum che approccio ci sono tutte e due ci sono quelli che hanno veramente voglia ci sono quelli che vengono perché perché hanno l'ossessione io dico sempre se vuoi fare davvero questo lavoro devi avere l'ossessione di studiare di imparare non devi pensare altro dalla mattina alla sera soltanto così arrivi in qualche modo e ci sono quelli che pensano che fare questo lavoro significa avere le copertine dei settimanali in cui c'è scritto Lorenzo ha lasciato Pierluisa che non si sa manco chi so ma che fanno parte di qualche trasmissione o di qualche cosa per cui sono arrivati a un momento di grande fama notorietà che poi svanisce perché se poi non ci sono delle basi tutto sparisce alla fine non rimane nulla ripeto ci sono tutte e due mi dispiace molto quando arrivano dei ragazzi che hanno voglia di imparare ma che non sanno nulla del passato e io infatti li massacro e gli faccio vedere 450 film gli faccio vedere filmati su YouTube gli faccio leggere testi teatrali perché devono capire che cos'è questo lavoro quindi tu dici avere comunque anche un approfondimento sulla storia del cinema e del teatro assolutamente tu non puoi pensare di essere il capostipite del ruolo dell'attore oggi si è riuscita in questo modo perché qualcun altro prima ha messo alle basi se vogliamo parlare dell'acto studio Stanislavski se vogliamo parlare per il teatro dello straniamento brechtiano cioè devi devi capire come è stato come è evoluto come si è evoluto il ruolo dell'attore come si è arrivati oggi a recitare in questo modo qual è la differenza tra la regia di un film degli anni 50 60 come si è passato che evoluzione c'è stata devi capire cosa è stato il neorealismo cosa è stata dalla commedia all'italia devi saperle non puoi pensare non puoi fare il pittore e non sapere chi era Van Gogh non lo puoi fare secondo me poi c'è chi dice che mi importa arrivo io adesso e ricomincio da capo e sono il numero uno della storia da oggi in poi secondo me non è questo il modo più corretto quindi qual è la prima cosa che cerchi di trasferire loro e la prima domanda che fai loro la prima domanda che faccio è perché volete fare questo mestiere la prima e quando tutti mi dicono quasi tutti ma perché mi piace l'idea di raccontare un personaggio che è lontano da medico ricordatela questa cosa perché poi quando ci lavoreremo sopra non puoi pensare che i personaggi diventino te sei tu che devi diventare altri personaggi quindi devi abituarti a uscire dal porto a non rimanere con la cima legata alla bit al porto e andare così ma devi andare in mare aperto devi aprirti non devi avere corazze non devi avere chiusure Stanislavski lavorava con uno psicologo per formare gli attori arrivava allo scontro fisico verbale per scatenare qualcosa in modo che l'attore poi fosse libero e nel momento in cui era libero aveva la possibilità veramente di andare a raccontare qualcosa di diverso serve questo e poi serve una passione fuoribonda una passione fuoribonda se non hai quello se non hai la voglia è difficile se pensi ah beh adesso ci sono in scena ora non parla il mio me ne posso anche andare a fumare e non hai capito che invece devi rimanere a guardare gli altri a cercare di capire come lavorano a cercare di capire perché hanno fatto delle scelte perché il regista l'ha portato o il direttore di doppiaggio l'ha portato a fare una scelta piuttosto di un'altra io non è per io cito una cosa che mi riguarda non perché mi piace parlare di me ma per raccontare per quale motivo a distanza di tanti anni io adoro ancora fare questo lavoro io avevo otto anni e facevo in teatro il racconto d'inverno di Shakespeare e facevo il principino che muore alla fine del secondo atto io tutte le sere alla fine del secondo atto mi spogliavo di corsa mi mettevo gli abiti civili andavo in sala mi guardavo il terzo atto tornavo di corsa mi rimettevo gli abiti di scena per i ringraziamenti e mia madre mi diceva ma che ce vai a fare lo sai a memoria e io dicevo no voglio guardare gli attori mi piace guardarli mi piace vedere che cosa fanno è una passione c'hai una passione per cui è quella che ti fa migliorare che ti fa evolvere che non ti fa mai essere contento di quello che hai fatto io ogni volta che sento vedo qualcosa che ho fatto io mi trovo sempre mille difetti per fortuna per fortuna il giorno che dicessi perfetto aia dura brutto vuol dire che non evolvo più è vero che non ci sono piccoli ruoli ma piccoli attori assolutamente 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 d'accordo non esistono piccoli ruoli ma esistono piccoli attori pensa che tra l'altro questa è una frase che noi abbiamo usato Tullio Solenghi e io uno sketch che facciamo uno spettacolo che facciamo noi due che si chiamava in salata di riso e abbiamo fatto uno sketch proprio del regista e dell'attore sul gioco che non esistono piccoli ruoli ma esistono piccoli attori la CDC che è stata storicamente la cooperativa di doppiaggio più importante che sia mai esistita dalla quale sono venuti fuori gli attori più straordinari i doppiatori che rimangono nella storia da Pino Rinaldi a Pino Locchi a Cesareno Barbetti a Ferruccio Amendola a Gualtiero De Angelis a Emilio Cigoli a tutti gli altri esisteva una cosa che si chiamava il PF per favore cioè il direttore a volte chiamava un attore straordinario un doppiatore straordinario a fare una cosa piccola perché serviva che fosse uno bravo a fare quella cosa piccola e nessuno ha mai detto ma che io mi sento offeso che tu mi chiami a fare un ruolo così piccolo perché avevano capito perfettamente lo spirito e si erano calati nella mentalità corretta che era quella non esistono piccole parti esistono piccoli attori senti dietro di te ci sono pezzi di te intravediamo foto articoli è la tua parete quella è la mia parete no no poi c'è questo che vedi proprio dietro di me è una copia vera del messaggero del giorno della mia nascita l'ho trovato per cui me lo sono e tra l'altro io sono un grande tifoso della Roma come vedi c'è una foto in prima pagina perché la Roma è un giornale del lunedì e la Roma la domenica aveva vinto 5 a 0 con la Triestina quindi per me porta bene anche quello ma secondo te allora da grande tifoso della Roma e il gol di Turone era buono ma stra buono no buono era stra buono ci hanno rubato pure quello scudetto come ci hanno rubato adesso la finale di Coppa Europa mannaggia mi sento con quell'anno abbiamo visto recentemente dopo un film di Francesco Micichei bellissimo e allora mi è venuto in mente senti Massimo ti avevo detto 20 minuti abbiamo superato i 30 perché io andrei avanti altri 30 minuti ma so che io lo so che poi sono logorroico parlo chiacchiano tanto a volte anche troppo no 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 e questo è perché poi torni no più avanti tra un po' quando vuoi ci aggiorni su quello che stai facendo ti mando un bacio grande un bacio grande a tutti voi a chi è in ascolto e a te un bacione grazie ciao 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 ciao